notte di mezza estate notte bianca annuale sabato 28 giugno la città medievale si vestirà di luci e di stelle per una festa fatta sì di shopping con negozi aperti oltre la mezzanotte ma anche di musica arte teatro e molto altro come l'osservazione del cielo coi telescopi degli astrofili salesi saranno ben 18 i punti di attrazione disseminati nel centro storico tra le due piazze via tempesta e largo san giorgio si potrà ascoltare funky jazz e blues dal vivo ballare con svariati dj set ridere col cabaret dei cialtroni ammirare le esibizioni di pattinaggio e ginnastica artistica visitare mostre d'arte ampia scelta anche per i bambini dalla baby dance ai giochi di una volta mentre 15 diverse postazioni enogastronomiche faranno venire la colina in bocca a golosi e buongustai in tutte le attività partecipanti verranno distribuite le cartoline del concorso vinci con le notti nel miranese in palio 4.000 euro di buoni acquisto estrazione il 28 settembre e un buono acquisto speciale premierà anche lo scatto con più mi piace su facebook l'organizzazione di conf commercio è super collaudata pronta a fronteggiare l'assalto dei nottamboli sabato 28 giugno noale si sveglia a mezzanotte l'organizzazione di conf commercio è super collaudata a fronteggiare l'assalto